Sei vittima di violenza o stalking? Non sei sola, chiama il 1522, numero antiviolenza e stalking. È ciò che d'ora in avanti si potrà leggere all'interno di tutti i bar, ristoranti e pubblici esercizi. È stata rinnovata infatti a livello nazionale la sinergia tra enti pubblici e locali privati, volta a combattere la violenza di genere. Un obiettivo che passa anche da un cartello informativo, che tutte le attività dovranno esporre nella propria vetrina e nei luoghi del locale maggiormente frequentati. Un'iniziativa non nuova per Fipe Coffcommercio La Spezia, che già aveva aderito all'articolo 1 della legge di bilancio 2020, che prevedeva l'obbligo di esposizione di un cartello recanto al numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e stalking. È piuttosto un semplice cambio di grafica del cartello per diffondere in maniera più efficace un messaggio di sostegno e vicinanza. Il progetto Non sei sola, realizzato da Fipe, coinvolge Coffcommercio e pubblici esercizi per sensibilizzare contro la violenza delle donne ed in genere. Coffcommercio si rende disponibile a fornire informazioni e supporto per gli esercizi pubblici e ci include l'esposizione del cartello obbligatorio del numero verde 1522 all'interno dei locali, proprio per aumentare la consapevolezza e l'accessibilità di questo servizio vitale. Invitiamo tutti i colleghi, ristoratori, baristi, tutti i proprietari dei locali a risporre questo cartello per poter aiutare come possiamo tutte le donne vittime di violenza e stalking. Se sei vittima di violenza o stalking, chiama il 1522 e se hai bisogno chiedi aiuto anche a noi.